Grazie, benvenuti in questo videosfogo. Sì, sono ritornato, sinceramente ne potevo fare i videosfoghi a buttare, però io mi sono voluto concentrare molto a fare le recensioni, perché mi rubo un tempo, ho parlato di sta povera gente, non c'ho un cazzo da fare, ero un picoglione, ma ora mi direte, allora, però adesso lo stai facendo i videosfogo. Sì, perché mi è stato toccato a me un mostro sacro, mi è stato toccato uno dei miei registri preferiti, ma mi puoi insultare a me? Assolutamente. Puoi dire quel cazzo che vuoi, noi diciamo, ma come? No, perché stiamo toccando un qualcosa e non bisogna toccare, l'arte non si tocca. Noi, alla fine, io che posso solamente divulgare quest'arte, parlarvene, magari riuscissi a fare delle cose del genere, io sono un piccolo, non so come questi che sono dei coglioni, però, insomma, un piccolo essere, in confronto a questi pesi massimi di questi capolori, di film che vi parlo. E io mi riferisco alla recensione che ho fatto su Tu vivrai nel terrore, l'aldilà. Secondo me uno dei migliori film horror degli ultimi 50 anni, Cioè, riesce a raggruppare tutto quello che io cerco in un horror e che dovrebbe dare un horror, e mi arriva il commento. Allora, tanti commenti mi sono arrivati positivi, io vi ringrazio, che avete apprezzato la mia recensione, ringrazio Galvatron Primus, Barbara Rossi, ringrazio Davide Terminator, Ringrazio Naginate Mike, ringrazio Conklin69, Luca Manzoni, Angeli Ignazio, Napoli Regna e Maria Glossi, ringrazio che prendi, hanno apprezzato molto, e anche, facendo me, tante altre persone che non hanno commentato, avranno apprezzato, io vi ringrazio perché avete lasciato un mi piace, avete visto molto il video, sta andando bene. Ma l'unico che non ha apprezzato è stato questo, Giuseppe. Che dice? Il vostro cosiddetto film cult è solo uno splatter, genere che per fortuna ha fatto il suo tempo, scoppiazzatura dei film di Dario Argento. Che cazzo sai di Giuseppe? Ma primo, secondo me, il film tu non lo hai visto, cioè, capito, un cazzo e sei un ignorante capra. Secondaria cosa, tu dovresti essere triste perché ora abbiamo film di merda, cioè, come hanno passato il suo tempo, ma magari avere un altro film come L'Aldilà, ma io ti rendi conto che io L'Aldilà l'ho visto così tante volte che i film di merda che tu vedi, io me li vedo una volta sola e non li voglio vedere più. E sono scoppiazzatura dei film di Dario Argento. Ma che cazzo stai dicendo per due volte? Ma io gli ho risposto, ho detto, dimmi, dimmi. Non mi ha anche mai risposto perché non sa neanche argomentare. Lui sa dire solo cazzate. Ma in che senso è scoppiazzatura dei film di Dario? Io ho detto, spero tu stia scherzando. Stai toccando un copoloro, scoppiazzatura. Di quale film? Sentiamo. Tu, secondo me, non hai proprio capito niente di questo. E mi spiace per te, perché ti sei perso uno dei migliori film horror e soprattutto non hai ascoltato neanche la recensione. Cioè, perché se tu questo film, L'Aldilà, lo riduci solamente a un film splatter, vuol dire che tu sei un coglione e non capisci un cazzo di cinema. E non è un mio problema. Perché non lo dico solo io, che L'Aldilà, che in tutto il mondo è amato e viene ristampato centinaia di volte, ogni volta che va esaurito, viene ristampato in varie edizioni. Pure la Cecchi Gori l'ha portato in un'edizione fantastica con l'LP, con la musica di Fabio Frizzi. Ma tu vuoi mettere musica di Fabio Frizzi con i Goblin? Ma Fabio Frizzi rompe il culo ai Goblin, Fabio Frizzi. Ma stiamo scherzando? Cioè, ma con quale faccia tosta? Cioè, persone che non valgono un cazzo si permettono di parlare di film incredibili, che tu non riuscirai a fare un cazzo nella tua vita di merda. Io almeno non mi metto a disprezzare i capolavori che io so benissimo e che non riuscirò mai a fare una cosa del genere. Tu sei un piccolo coglione e ci rimarrai fino alla fine dei due giorni, perché tu non arriverai mai, non sarai mai ricordato come il maestro Lucio Fulci. Tu passerai, ma pure tu e tua madre si dimenticare di te. Dopo una set forse un paio di giorni piangerà, poi si scorderà pure di te. Perché non frega un cazzo di uno che non crea niente, non porta qualcosa di concreto, di tangibile. Perché Lucio Fulci rimarrà per sempre, immortale. Tu, secondo me, verrai già adesso, chi cazzo ti conosce a te, Giuseppe? Ma chi te sei in cula? Mi dispiace, ragazzi, ma quando ci vuole, ci vuole. Certa gente che si sente chissà chi, che poi non valgono un cazzo nella loro vita di merda e si mettono a commentare, a dire castronerie su film indescrivibili. Cioè, film che fanno tre mae. E tu sei un coglione. Questa è la cosa. Mi dispiace, ma è la verità. A me dispiace che praticamente gente come questa ha i miei stessi diritti, ha questi stessi diritti miei, di votare, di avere veramente voce in capitolo nelle cose. Bah! Ma io non ho parole. Non ho parole. Meno male che so in pochi la gente ignorante come lui. Però il mondo è anche pieno di gente che si sente sto cazzo e poi so piccoli, piccoli, piccoli così e poi non valgono una mezza sega. Bah, vabbè. Io vi lascio qua sotto i commenti fatemi sapere un po' la vostra. Vi saluto. Ciao. Ciao. grazie a tutti